Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con la rassegna stampa di Udinese TV, il primo appuntamento di informazioni live della giornata. Una giornata che iniziamo oggi subito con un collegamento da San Daniele del Friuli dove c'è Luciana Edelfonso che ci spiega che cosa succederà questa mattina. Vediamo sullo sfondo il pullman ufficiale dell'Udinese, quello griffato con le località turistiche di Grado, di Lignano, grazie alla collaborazione con Promoturismo FWG che affianca l'Udinese anche in questa stagione. Luciana, cosa succede questa mattina a San Daniele? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te e ai nostri telespettatori, ci troviamo proprio nel cuore di San Daniele, alle mie spalle come potete vedere quello che è di solito l'autobus utilizzato dalla squadra. Oggi sarà una giornata da sogno per alcuni bambini di San Daniele del Friuli, in particolare bambini che frequentano le scuole medie perché oggi arriveranno a scuola proprio a bordo di questo fantastico mezzo. Una giornata che non si concluderà qui perché ci sarà anche oggi la possibilità di ricevere una merenda un po' particolare per quello che è uno dei prodotti simboli di San Daniele, il suo prosciutto. Insomma, per questi bambini il ritorno a scuola che è iniziato ieri oggi sarà ancora più speciale dopo i lunghi mesi di lockdown e di covid che li ha tenuti lontani dalla propria classe. Avranno la possibilità di fare questo viaggio insomma a bordo del Pullman solitamente utilizzato dai loro miti, dai loro idoli del calcio. Allora il Pullman come puoi vedere è arrivato, ora iniziamo anche noi questo lungo viaggio che ovviamente vi racconteremo questa mattina proprio qui da San Daniele del Friuli. Francesco a te la linea. Grazie Luciana, allora ci collegheremo più tardi intorno alle 7.30, poi alle 7.45 partirà il Pullman con i ragazzi a bordo per portarli a scuola. Quindi una mattinata davvero da sogno per tanti ragazzi di San Daniele del Friuli che potranno viaggiare a bordo del Pullman ufficiale dell'Udinese. Adesso andiamo avanti e cominciamo la nostra rassegna con i siti internet. Andiamo, anzi facciamo così, la scaletta non è da stravolgere del tutto perché ci sono prima le immagini che arrivano dal territorio. Eccole qui, siamo sui monti, all'orizzonte possiamo vedere che c'è qualche nuvola, tra un po' andremo anche a vedere come saranno le condizioni di meteo oggi con le previsioni curate da Trebi Meteo. Qui siamo al mare, all'Ignano e con il Monte Lussari, come sempre suggestivo con le sue luci, ancora scorci del nostro Friuli Venezia Giulia con delle immagini molto belle, in questo caso con cielo sereno. Ma allora vediamo quali sono le previsioni per oggi, cosa dobbiamo aspettarci sotto il profilo del meteo sulla nostra regione Trebi Meteo. Amici di Udinese TV, ben trovati da Nico Schiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nel corso di giovedì l'alta pressione interesserà tutta Italia, durante la mattinata del primo pomeriggio, bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, poi attenzione perché tardo pomeriggio e serata qualche cella temporalesca in montagna, in parziale avvicinamento anche ad alcuni settori limitrofi di pianura. Il caldo estivo, caldo anomalo, valori prossimi ai 30 gradi, andiamo a vedere nel dettaglio le province. Pordenone, Udine, anche qui qualche locale fenomeno verso la serata in maniera isolata, macchia di leopardo, non lo escludiamo dalle montagne. Temperature sempre estive per quanto riguarda Gorizia e Trieste, una bella giornata, qualche fenomeno non escluso sulle zone interne, sul Goriziano, mentre più sole e giornata tranquilla su tutto il Triestino, anche qui al mare, temperature attorno ai 26-28 gradi. Dettagli approfondimenti ulteriori scaricando l'app di Trebi Meteo. Ed eccoci adesso pronti invece per le notizie, per cominciare la nostra giornata dell'informazione. Andiamo sui siti internet, cominciamo dal sito di Udinese TV, Udinese TV.it, che si concentra in primo piano sullo sport, sullo sport dove come vedete la notizia principale è quella del nuovo arrivato Molina che ha già iniziato a lavorare con il gruppo e già quindi a disposizione del tecnico Molina si è già messo al lavoro, il difensore argentino in attesa di poterci unire al gruppo ha iniziato a lavorare da solo ma comunque è già insieme al gruppo squadra, poi gli allenamenti sono personalizzati ma Molina a tutti gli effetti è un giocatore che comincia a lavorare agli ordini di Luca Gotti. Andiamo adesso a vedere le notizie nazionali per quanto riguarda anche altri argomenti, non soltanto lo sport. Siamo sull'agenzia ANSA, ecco qui che si carica la pagina dell'agenzia di stampa più cliccata del nostro paese. I positivi sono oltre 40.000, mai così tanti dal mese di giugno con 1.452 contagi in 24 ore. Però bisogna di nuovo sottolineare che sono stati seguiti 100.000 tamponi, quindi un numero molto alto di tamponi. Purtroppo si contano ancora vittime, ieri ne abbiamo registrate 12 casi in aumento ma individuati con più tamponi. Lo sottolinea anche l'agenzia ANSA, nessuna regione ha zero casi. Il totale dei medici morti sale a 177, ultimo decesso di un urologo attivo in Zambia per studiare il Covid-19. Questa è la prima pagina dell'ANSA, ma andiamo a vedere anche altro perché vediamo le ultime ore con gli incendi degli Stati Uniti. 5.30 di questa mattina la notizia, il fumo dei roghi degli Stati Uniti è arrivato in Europa e poi l'economia con le aperture in calo sia della borsa di Hong Kong che della borsa di Tokyo, in calo Hong Kong, in lieve ribasso quella di Tokyo. Andiamo a vedere anche altre agenzie, andiamo sulla DN Kronos, vediamo quali sono le notizie principali dell'agenzia di stampa. C'è Beppe Grillo in apertura, utili giù e zero contratti per società, 2020 incerto, l'ultimo bilancio della Beppe Grillo SRL depositato alla Camera di Commercio e visionato dalla DN Kronos, parla di utili a 65 mila Euro, salgono a 240 mila Euro le entrate della vendita degli spazi del sito. La DN Kronos fa i conti in tasca a Beppe Grillo, poi si parla del Recovery Fund, il piano del governo, aumentare gli investimenti pubblici portandoli almeno al 3% del PIL. Questo è l'obiettivo per far salire l'occupazione di 10 punti percentuali. TG.com 24 Un po' di lentezza questa mattina sulle linee internet, ma pian piano arriva anche il TG.com C'è un omicidio nel Cagliaritano, un 44enne è stato ucciso in strada con un corpo di fucile al petto ed è scattata la caccia all'uomo e poi l'apertura del sito è sul Covid-19 con i numeri dei contagi anche in questo caso si sottolinea però l'altissimo numero dei tamponi, 100 mila tamponi per arrivare a 1452 positivi che per lo più, dobbiamo dirlo, sono asintomatici. Andiamo a vedere invece l'ultima ora delle 6.27 si parla degli Stati Uniti, Biden, i politici non devono interferire con il vaccino secondo il candidato democratico alla Presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, la politica non può interferire con lo sviluppo, l'approvazione e la distribuzione di un potenziale vaccino per Covid-19 le scopette scientifiche non si preoccupano dei calendari, in questo caso si parla ovviamente del calendario che porterà alle presidenziali degli Stati Uniti, quindi il timore di Biden è che Trump possa sfruttare il vaccino per fare campagna elettorale e dunque Biden ammonisce i politici, restino fuori dal Covid-19. Andiamo a vedere che cosa succede invece sui giornali questa mattina, quali sono i titoli dei quotidiani, principali quotidiani nazionali, cominciamo con il Corriere della Sera, crescita e fisco, piano al via, von der Leyen, G20 sulla sanità in Italia, migranti, rivedremo le regole, alle Camere gli obiettivi del Governo per i 209 miliardi dell'Unione Europea, misure sul lavoro, scuola e digitale, sono tutti argomenti che approfondiremo nei nostri speciali del Tg che a partire dal mese di ottobre, quindi a partire dal mese di ottobre saranno stabilmente in paninzesto il mercoledì, nella loro versione con argomenti di politica, attualità, cronaca di livello nazionale e se sarà il caso anche internazionale, mentre continueremo poi anche con gli approfondimenti sul territorio, negli speciali del Tg la presenza delle grandi firme del giornalismo italiano, come i direttori del giornale Alessandro Sallusti, di Libero Pietro Senaldi, Carlo Nordio, che abbiamo avuto ieri sera per parlare di referendum e tanti altri. Sul Corriere della Sera si parla anche di Schwazer, il caso, il marciatore accusato di doping e le analisi anomale, quindi si parla ancora, c'è ancora tanto dubbio su quello che è accaduto dopo il ritorno di Schwazer, dopo la lunga squalifica per doping, una lunga battaglia legale vicino all'epilogo coinvolge Alex Schwazer, squalificato per doping nel 2006, la perizia del comandante del RIS di Parma, Gian Pietro Lago, l'ex campione della marcia, potrebbe essere stato vittima di un complotto, il PM di Bolzano, tra il rinvio a giudizio e l'archiviazione, vedremo come andrà a finire, ma tra un po' arriverà la verità, quella della magistratura, sul caso di Alex Schwazer, che ricordiamo era stato squalificato, poi era, dopo la squalifica, tornato, tra l'altro mettendosi a disposizione di Donati, che è un paladino della lotta all'antidoping, proprio come sfida per tornare di nuovo a gareggiare pulito e a un certo punto però era stato di nuovo trovato positivo e quindi escluso anche da manifestazioni importanti. Lasciamo il Corriere della Sera per spostarci sulla Repubblica. Ecco, la Repubblica lega così sparivano i soldi, le rivelazioni del factotum dell'operazione Lombardia Film Commission intercettato dagli inquirenti, i commercialisti del partito hanno dirottato e ciucciato tonnellate di denaro, se parlo io viene giù il mondo, Salvini, i 49 milioni li abbiamo spesi tutti nelle campagne elettorali. Poi sotto la testata la svolta di Ursula, aboliremo Dublino, intervista al presidente tedesco Stenmayer sull'Italia al peso maggiore, serve una soluzione un'Italia, fa piacere che se ne rendano conto un po' tutti, dalla Wunderdayen al presidente della Germania. Poi c'è un articolo di Carlo Cottarelli che è interessante perché si parla sempre di burocrazia e Cottarelli dà delle indicazioni come salvarsi dalla macchina della burocrazia. Ed è un libro che è stato scritto da Tito Boeri e Sergio Rizzo, dal titolo Riprendiamoci, lo Stato come l'Italia può ripartire. E Cottarelli dice mi piacerebbe averlo scritto, Cottarelli lo commenta semplicemente ed è una mappa su come orientarsi all'interno della burocrazia italiana che sappiamo è molto pesante. Andiamo sul gazzettino, il gazzettino titola sulla scuola, vietate quegli scioperi, sono previsti scioperi il 24 e il 25 di settembre, il garante dei servizi pubblici, sono legittimi ma del tutto inopportuni in questo momento. Mi credo che i ministeri e i prefetti non intervengano per impedirli o farli rinviare regionali, tra Zaia e Lorenzoni, niente confronto TV rischioso, no dei medici al candidato di centro-sinistra colpito dal virus. E poi Vaia firmerà la libreria più venduta nel mondo. La nuova libreria del colosso Ikea si chiamerà Effetto Vaia, il gruppo svedese la realizzerà con il legname delle foreste abbattute dalla tempesta del 2018. Questa è la pagina del gazzettino che poi andremo a vedere anche nelle sue pagine interne. Andiamo sulla stampa per parlare ancora delle dichiarazioni della von der Leyen, via Dublino e i decreti sicurezza. Eccola qui. Intervista al ministro Amendola dall'Europa un passo storico nel 2021, vertice sanità in Italia. Allora io vedo Luciana Edelfonso collegata da San Daniele, vediamo se chiede la linea per intervenire per un primo passaggio anche con gli amministratori della città di San Daniele, è chi quest'oggi partecipa e ha collaborato alla organizzazione di questa importante iniziativa in collaborazione con Udinese Calcio. Luciana a te la linea. Sì, buongiorno Francesca, ci ha raggiunto infatti qui in piazza il sindaco di San Daniele Pietro Valent. Buongiorno sindaco, oggi ci troviamo nel suo salotto in questa bellissima piazza, protagonista alle nostre spalle il pullman dell'Udinese che oggi, diciamolo, regalerà una mattinata da sogno ad alcuni alunni di San Daniele che arriveranno a scuola proprio con questo mezzo, quello ufficiale, quello dei giocatori, quindi per molti di loro veramente una grande occasione. È un piacere per me essere qui a darvi il buongiorno e in una giornata così speciale con l'Udinese. In questi giorni si è parlato tanto del trasporto scolastico, l'inizio delle scuole, tanta ansia, tanta tensione. Ieri il primo giorno è andato bene e oggi i nostri ragazzi avranno anche questa bellissima sorpresa, che non è l'unica della giornata, perché abbiamo l'Udinese e il Consorzio del Prosciutto, che è sponsor dell'Udinese da quest'anno, che faranno un'ulteriore sorpresa ai ragazzi delle medie. Quindi io le accompagnerò giù dalla piazza fino alle scuole di Viale Kennedy e lì inizierà una mattinata un po' diversa. Ecco, queste sponsorizzazioni quanto sono importanti anche per far conoscere, poi al di là del prodotto che sappiamo essere eccezionale, anche la città al di fuori di quelli che sono i confini regionali. Ma quello che è importante è il gioco di squadra, l'Udinese e il Consorzio del Prosciutto, il nostro Prosciutto Dove, sono due eccellenze di questo Friuli, portano il nome del Friuli in giro per l'Italia e per il mondo e quindi bisogna lavorare assieme. San Daniele è orgoglioso di poter essere partner di questo sudalizio e di fare in modo che il proprio nome viaggi fuori, molto oltre i confini regionali. Sindaco, oggi sarà anche l'occasione per fare un augurio di buona auspicia ai tanti studenti qui di San Daniele, sarà un anno difficile ma comunque siamo ripartiti. Sì, siamo ripartiti, non sappiamo che ci aspetta il futuro ovviamente ma siamo pronti ad ogni evenienza. La ripartenza ieri, come dico, è stata buona, abbiamo avuto un piccolo guasso su un pulmo ma l'abbiamo risolto immediatamente e quindi abbiamo dimostrato che anche piccoli inconvenienti con tanto lavoro di tante persone riusciamo a superarli. L'importante è che i ragazzi possano ritrovare la loro socialità, il contatto con gli insegnanti e che possano ritornare a una vita quasi normale. E allora Francesco, a questo punto attendiamo gli studenti che arriveranno proprio qui in piazza per poi raggiungere le scuole. L'appuntamento sindaco è intorno alle sette e mezza di solito col pulmo, giusto? Sette e mezza è la fermata in piazza e quindi alle sette e mezza noi caricheremo i bambini sull'autobus dell'Udinese. E allora non vediamo l'ora di vedere il loro entusiasmo per ripartire oggi su questo mezzo speciale. Francesco, intanto ti restituisco la linea, poi magari te la richiedo a breve per altri interventi. A te. Grazie, grazie Luciana e grazie al sindaco Valent. Noi torniamo sulla rassegna, adesso andiamo a leggere il fatto quotidiano, l'apertura del quotidiano è sulla politica, in questo caso però sullo scandalo Lega e il commercialista. Se parlo è un casino, così hanno dirottato tonnellate di soldi, apro i cassetti, sfogo di Sciglieri intercettato contro gli altri due contabili, se mi scassano le balle io parlo, la Lega hanno ciucciato montagne di soldi. Questo è quello che scrive il fatto quotidiano riferendosi alle intercettazioni. Poi le firme del fatto quotidiano che oggi si occupano di vari argomenti, da Padellaro che scrive sui rischi Gianni e Renzi di Settis, i depistatori del no, poi Fini, Scuola, Basta, Drammi, Barbacetto, Topi alla Milanese, Mercalli, Clima, Scuse Finite ed infine Palombi, Visco e le Banche. Questo il fatto quotidiano. Andiamo adesso avanti con il manifesto. Andiamo, siamo su Repubblica ma non è questo il giornale da leggere. Il manifesto, eccolo qui, batte un colpo. Il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, fotografa un'Europa fragile, piegata dal Covid che deve intervenire per invertire la rotta, riduzione delle emissioni di gas, serra del 55% entro il 2030, solidarietà sanitaria, salario minimo, lotta al razzismo, sviluppo del digitale, ma sui migranti prepara la stretta, più rimpatri che accoglienza. Questo è il titolo del manifesto che sotto la testata invece parla del recovery fund, Conte presenta il piano pronto a confrontarmi con il Parlamento. Poi il referendum, Veltroni vota no, non è su Conte. Se quello di domenica fosse un voto sul governo voterei a favore, ma è un'altra storia. L'ha detto ieri Walter Veltroni che è il primo segretario del PD spiegando che non si può fare il taglio senza una riforma complessiva e non tenendo conto degli equilibri. Dunque voto no come prodi. La sinistra è sicuramente l'area politica più spaccata tra il sì e il no al voto per il referendum, come abbiamo visto anche ieri sera nel nostro speciale del Tg. Qui siamo sul foglio, il titolo centrale in colore rosso, al recovery serve una terapia intensiva, molti obiettivi giusti, molte promesse, sagge, molti sogni da sballo, ma al fondo zero progettualità, zero visione, zero numeri. Il governo presenta le linee guida sui fondi europei e ci sono ragioni per essere preoccupati. Copiare da Macron, merci. Sotto la testata invece alleanze improbabili, foto imbarazzanti, nemici di fianco, passeggiata spensierata tra i pazzi trasversalismi innescati dal referendum. Andiamo invece adesso sulla verità. C'è cascato anche il Papa, non è pazzo, è clandestino il tunisino che ha ucciso il prete. La vulgata bonista secondo la quale l'assassino di Don Roberto sarebbe malato di testa è stata messa in bocca perfino a Bergoglio, ma non c'è un minimo riscontro. Ci sono invece le violenze ripetute dell'immigrato, i decreti di espulsione, la sua accusa al sacerdote di avergli consigliato l'avvocato sbagliato. E poi al centro della pagina Donald Trump, la morsa degli Stati Uniti sulla Cina può stritolare l'Italia, da questa altra parte invece non avrà il Nobel per la pace perché è Trump. I soldi dell'Unione Europea arrivano se fate i bravi. La von der Leyen entra con i piedi nel piatto delle politiche dei singoli paesi, controlli sullo Stato di diritto, normative anche sui temi etici, obiettivi impossibili per l'ambiente e rispunta anche il MES. Qui in basso invece il capo a tempo della consulta fa lo spot per il referendum ed infine ci martellano vaccinatevi però il farmaco è introvabile e questo per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale. Si sta raccomandando la vaccinazione a più persone possibili per avere anche un parametro di controllo sul Covid-19. Se si è vaccinati e si ha la febbre, se hanno sintomi che poi sono simili, quelli dell'influenza a quelli del Covid-19, se si è vaccinati è probabile che si tratti di Covid-19. Andiamo a vedere Libero, Meloni, batterò i grillini, il sorpasso è vicino, Giorgia è fiduciosa, regionali più decisive del referendum, lunedì Fratelli d'Italia supererà il Movimento 5 Stelle, numerosi i bidonisti pentastellati, ecco l'elenco di chi non ha pagato. E poi i massacratori di Willi col reddito di cittadinanza ed ancora al centro Gigino colpito da un gavettone, non si tira l'acqua a Di Maio. Chiudiamo la rassegna con il giornale per quanto riguarda i quotidiani generalisti, poi vedremo solo le 24 ore, sul giornale il titolo è sul reddito di cittadinanza agli assassini di Willi, i fratelli bianchi e i due amici in carcere percepivano l'assegno voluto dai grillini, sussidio scandalo, da quest'altra parte prete ucciso, ora rimuovono l'immigrazione dall'Europa altre promesse, basta trattato di Dublino, la sinistra però nega il problema. Qui invece flop, misure anti-Covid, mancano 181 decreti, mentre Conte promette meraviglie, poi i vaccini anti-influenzali requisiti dalle regioni sono introvabili in farmacia. Poi il calcio di parte è un miracolo ma senza aiuto il sistema crollo, intervista al presidente della FIGICI Gravine, qui vediamo Pirlo che ha superato l'esame per poter allenare con una tesi, il calcio che vorrei, la sua tesi per il patentino UEFA, libertà, rombi e feroce, ecco il calcio del professor Pirlo. Continuano intanto a San Daniele delle Operazioni vicino al pulmano ufficiale dell'Udinese, come potete vedere si sta in questo momento preparando il pulmano proprio ad accogliere alle 7.30 i ragazzi delle scuole medie che poi l'autista ufficiale dell'Udinese Dimitri condurrà a scuola in questa giornata in cui il pulman dell'Udinese farà da scuola bus, quindi sicuramente una bella sorpresa per i ragazzini di San Daniele del Friuli. Qui andiamo sul sole 24 ore, mutui tassi sotto quota 0.50, effetto Covid che fa crollare i tassi, ma la tendenza è al rialzo, anche la rata variabile è scesa sotto il mezzo punto. Visco e il rischio NPL, tenere alta la guardia di strutturare i crediti e poi andiamo a vedere qui, piattaforme petrolifere addio, Antonini riparte con i maxi yacht. Riconversione produttiva alla spezia e qui vediamo un esempio di maxi yacht, di egli anti-Covid, 20 miliardi da spendere, vanno spesi però ovviamente con criterio, vanno spesi bene. Diamo un'occhiata adesso a cosa succede in autostrada prima di passare alla lettura delle prime pagine e degli articoli più interessanti all'interno dei quotidiani locali, vediamo se siamo pronti con Autovio Veneto, ecco che arriva il quadro della situazione con gli avvisi di lavori in corso, non ci sono strisce rosse, ci sono restringimenti di carreggiate per i cantieri sui vari tratti dell'A4, in particolare abbiamo una corsia di sorpasso chiusa tra La Tisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste sulla A4. Per il resto vediamo un'altra carreggiata, in questo caso c'è uno scambio a causa dei lavori in corso, sempre tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana il tratto è quello e qui invece alcune segnalazioni di erogazione di carburante sospesa per lavori in corso e in questo caso si tratta però soltanto per quei veicoli che marciano a GPL. Continuiamo sull'autostrada per dare un'occhiata anche al traffico con le webcam, la situazione dovrebbe essere tranquilla, così è infatti, questa è l'ultima sequenza scattata alle 7.24 che ci mostra una circolazione fluida sul Bivio a 4, a 23 in direzione Milano, qui siamo a Gonars ed anche in questo caso non si rilevano particolari criticità, il traffico scorre senza problemi, qui siamo addirittura alle 7.26 quindi le immagini in tempo praticamente reale e chiudiamo come sempre con la barriera dell'Isert dove vediamo che la situazione è ancora più tranquilla, il traffico è assolutamente scorrevole, ci sono pochissime autovetture, pochissimi mezzi in strada. Ecco qui di nuovo l'immagine a San Daniele, vedo Luciana che è vicino al pullman, sta aspettando che arrivino i ragazzi per documentare questo momento così emozionante per i ragazzi delle scuole medie che in piazza a San Daniele verranno poi caricati a bordo del pullman dell'Udinese, il pullman ufficiale per essere portati a scuola. E allora noi continuiamo con la rassegna, poi avremo modo naturalmente di tornare da Luciana e Delfonso, ecco vediamo le immagini del pullman dell'Udinese che sono sempre belle da vedere, c'è già qualche ragazzo a bordo, qualcuno si è anticipato e come potete vedere il pullman tra l'altro di ultimissima generazione messo a disposizione dell'Udinese Calcio. Allora Luciana ci chiede la linea perché c'è un ospite da intervistare mentre vi mostriamo queste belle immagini della cabina del pullman che trasporta i calciatori dell'Udinese in occasione delle partite, quelle geograficamente più vicine, addirittura il trasporto da una città all'altra, altrimenti prima della partita dalla sede del ritiro alla Dacia Arena. Luciana a te la linea. E di nuovo buongiorno. Sì Francesco siamo saliti a bordo del pullman dell'Udinese per dare un'ultima occhiata, insomma se era tutto a posto perché a brevissimo saliranno a bordo i ragazzi, uno addirittura è già qui insieme a noi. Nicola, Sivilotti responsabile della comunicazione del Consorzio San Daniele del Friuli, oggi questa giornata speciale che poi si concluderà anche con un vostro prodotto. Sì, è una giunta particolare per la città di San Daniele e per gli studenti delle scuole secondarie e primarie del Comune di San Daniele. Abbiamo accolto questa iniziativa dell'Udinese Calcio, vista la collaborazione che si è avviata da quest'anno e quindi ovviamente non potevamo mancare anche con la fornitura di quello che è il nostro prodotto e quindi una merenda per tutti gli studenti, proprio a ricordare l'inizio dell'anno scolastico e augurare anche da parte nostra, oggi insieme all'Udinese Calcio, l'inizio di un buon anno scolastico un po' particolare ma che sicuramente può ripartire con un piccolo omaggio da parte del Consorzio per una merenda col prosciutto di San Daniele, sicuramente per iniziare bene questa nuova settimana. Nicola, quanto è importante la collaborazione con l'Udinese Calcio anche per la promozione poi del prodotto, non soltanto qui in regione ma visto che grazie alla squadra arriviamo un po' dappertutto? Sicuramente è un'importante occasione di visibilità e di promozione del prosciutto di San Daniele grazie alla collaborazione con l'Udinese Calcio, parliamo di un prodotto che è conosciuto a livello nazionale e a livello mondiale però sicuramente può essere raccontato ancora e deve ancora essere raccontato anche attraverso le sinergie del territorio e quelle che la regione Friuli Venezia Giulia ci sta offrendo. La collaborazione con l'Udinese è sicuramente un progetto che va in questo senso appunto per raccontare ancora di più il prosciutto di San Daniele sia allo stadio, a Dacia Arena sia anche nelle altre occasioni delle partite delle altre regioni in Italia ma anche sicuramente una promozione condivisa di due brand comunque di eccellenza del Friuli Venezia Giulia. E allora non sappiamo quale di questi posti siano tutti occupati dai nostri campioni oppure no? Però io e Nicola ci accomodiamo perché a breve partiremo per andare verso le scuole di via Kennedy e trasportare insieme a noi questi giovani studenti pronti per il loro secondo giorno di scuola. Francesco a te la linea. Grazie Luciana, a dopo, grazie. Sono le 7.30 e noi andiamo avanti con la nostra rassegna in attesa poi di ricollegarci con San Daniele. Ripartiamo con la lettura delle pagine in tenere quotidiane andando sul gazzettino per mostrarvi questa pagina e avere anche l'occasione di ricordare a tutti che la nuova edizione del TG News 24 dedicata al Veneto va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.30 in replica alle 24. Tutti i giorni il TG News 24 raddoppia oltre all'informazione sul Friuli Venezia Giulia e all'interno anche le notizie di carattere nazionale abbiamo deciso di fare anche un'edizione interamente dedicata al Veneto dal momento che il nostro canale è visibile sempre sul 110 del telecomando anche in Veneto quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.30 alle 24 il TG News 24 dedicato al Veneto. Andiamo avanti per vedere invece le altre notizie cominciamo con il nord-est la pagina del nord-est sempre sul gazzettino dove si parla della prima volta di un rettore donna Tiziana Lippiello entra eretta al ballottaggio con Monica Biglio dopo che i due sfidanti uomini si erano ritirati dalla corsa un umanista al vertice di Ca' Foscari dopo 50 anni docente di cinese e vice uscente ha guidato le attività internazionali. Andiamo adesso invece sulla pagina dedicata al Friuli la prima pagina della dorsale dedicata al Friuli all'interno del gazzettino sanità privata la battaglia degli operatori ieri sciopero dei circa 2.000 lavoratori del settore in regione che chiedono diritti dei colleghi pari diritti dei colleghi del pubblico riapre il visionario con 5 sale innovative alta qualità delle proiezioni anche per l'acustica qui possiamo vedere i lavori che hanno ampliato gli spazi per i film e tra un po' partirà la nuova stagione delle proiezioni e poi c'è questa bella foto che è ben rivista anche sui nostri social sui nostri siti di Zico che indossa la nuova maglia dell'Udinese e poi c'è l'annuncio che l'Udinese giocherà con la SPAL sabato a Premariacco un'altra partita amichevole questa è una bella foto con Zico che ha ricevuto la maglia che ricorda proprio gli anni in cui il galigno la indossò per l'Udinese e quella di quest'anno ricorda molto la maglia di quella storica e di quelle storiche annate. Moreton dalla politica alla presidenza dell'ex safilo e quindi Gianfranco Moreton è stato vicepresidente della regione con Illi dal 2003 al 2013. Andiamo adesso sul messaggero di Udine leggiamo la prima pagina del quotidiano cittadino ecco la che arriva tampone per il covid a un friulano su 10 il maggior numero di test eseguiti in provincia di Udine il picco nel mese di agosto 74 mila esami il maggior numero è stato quindi eseguito proprio nella nostra provincia e i dati sono molto alti i numeri di tamponi effettuati i contagi tutto sommato sono rimasti a un livello stabile in questa fase come in tutta Italia sono tornati più contagi più positivi ma sono anche aumentati i tamponi. Riparte il campionato di serie A e poi da questa parte il sogno mondiale di Gasparotto e poi trasporti calo di passeggeri con punte del 30 per cento ci si sposta di meno e c'è anche chi non vuole spostarsi con i mezzi pubblici per evitare assembramenti vediamo un po' di immagini da San Daniele ecco siamo con la telecamera di spalle rispetto ai ragazzi che hanno anche la mascherina e quindi possiamo permetterci di farvi vedere qualcosa guardate come prendono posto sul pullman dell'udinese calcio che questa mattina fa da scuola bus e li accompagnerà e li accompagnerà al loro istituto per iniziare le lezioni tra un po' torneremo con Luciano e Delfonso a commentare di nuovo questa fantastica giornata per tanti ragazzi di San Daniele del Friuli. Adesso andiamo a vedere la pagina dedicata alla città di Udine l'apertura di Udine del messaggero l'ex comandante denunciò il sindaco mi ha diffamata ma per il GIP fu critica politica e poi non versa 400 mila euro di tasse un commercialista abusivo truffa i clienti ragioniere con la passione per il calcio aveva guidato i giovani del Donatello un ex cliente i rifili a due sberdi al bar e finisce ai domiciliari era stato provocato ragioniere Duilio Alù di 53 anni aveva allenato il Donatello le operazioni non erano inesistenti ma giustificate da fatture per attività su Google. Abbiamo parlato molto ieri nei nostri telegiornali di questa clamorosa vicenda. Andiamo a vedere invece il messaggero di Pordenone cambiamo dunque l'edizione per vedere se la prima pagina presenta titoli diversi e qui il titolo è sul buco del commercialista che era del Pordenonese inchiesta della finanza di Pordenone partita dalla finanza di Pordenone l'accusa incassava soldi non li versava ci sono anche tre indagati per false fatturazioni la fotonotizia al centro via a piena legge nel 2021 eventi anche nelle fabbriche positivo al tampone assesto al Reghena è stato ricoverato nel reparto Covid. Vediamo la pagina di Pordenone l'allenatore commercialista abusivo non versa 400 mila euro di tasse dei clienti lui collabora e la finanza sposta la lente pure sugli assistiti tre indagati per fatture false sequestro per 413 mila euro poi qui a destra ai danneggiati rimane soltanto l'azione legale c'è poco da fare per il fisco non hanno versato le tasse anche se avevano dato i soldi al loro commercialista possono rivalersi su di lui ma per il fisco risultano evasori questa è la clamorosa beffa andiamo adesso a leggere il Corriere del Veneto la prima pagina le due edizioni che abbiamo a disposizione sono quella di Venezia e di Treviso e Belluno vediamo quella di Treviso e Belluno anche se il titolo di apertura è uguale scuola due classi in quarantena a Treviso scatta il protocollo di una materna in un liceo 40 in isolamento tra alunni e maestre e a Verona ordinanza anti assembramenti del sindaco obbligo di mascherina anche fuori dagli istituti si ricorda anche qui che a Venezia è stata eletta la prima donna rettore in Veneto patto tra Atenei e poi ancora immagini in questo caso Vittorio 73 anni ingegnere eroe dovevo salvare quella ragazza parte dal letto di ospedale Vittorio Cingano l'ingegnere di 73 anni che è stato picchiato a calci in faccia in piazza per aver difeso una ragazza racconta momenti terribili del pestaggio non potevo girarmi dall'altra parte dice la figlia sono orgogliosa di papà questa la pagina del Corriere del Veneto anche qui come potete vedere la pubblicità del Tg interamente dedicato al Veneto tutti i giorni sulla nostra rete da lunedì al venerdì alle 20 e 30 in replica alle 24 adesso andiamo a vedere il piccolo di Trieste edizione della città hotel obelisco arriva la svolta venduto all'asta per 1,7 milioni turismo buon prezzo per lo storico albergo di Opicina e il suo parco ridotti a rudere e giungla sconfitti i favoriti il complesso era sul mercato da un decennio ma il compratore per il momento non si rivela qui in alto grado il mare restituisce preziose anfore romane questa è la prima del piccolo edizione della città adesso vediamo l'edizione di Gorizia e di Monfalcone se cambia qualcosa in apertura l'apertura è identica ma siamo spostati all'interno allora eccola qui la pagina di Gorizia no cambia il titolo al buonarroti 105 test negativi in quarantena liceale goriziana virus e scuola mossa preventiva all'isis dante alighieri per una ragazza entrata in contatto con un malato poi la notizia delle anfore recuperate a grado in carcere un laboratorio che produce mascherine e poi si parla anche di triestina il calendario regala all'unione un avvio soft l'esordio sarà al Rocco quindi si partirà in casa con il prossimo campionato di serie c Gorizia la pagina della dorsale dedicata alla città e qui si parla della iniziativa nel carcere dove i detenuti diventano sarti ecco le mascherine e poi dicono ora siamo utili sono 44 i carcerati fra cui diversi stranieri in una struttura che ha creato il laboratorio nell'ex cappella il progetto enjoy dello Iale FWG a 40 ore di corso il sogno di produrle per tutti i penitenziari regionali è il momento adesso di aprire la pagina sportiva e lo facciamo tornando sul gazzettino mentre diamo ancora un'occhiata a San Daniele guardate che bella immagine in mezzo alla piazza con il pullman sullo sfondo i genitori che attendono che i loro figli partano a bordo di questo insolito scuolabus a San Daniele del Friudo una bellissima iniziativa in collaborazione tra Udinese e Consorzio del Prosciutto di San Daniele naturalmente l'amministrazione della città le autorità e le istituzioni scolastiche Sport dunque sul gazzettino andiamo a vedere subito la prima pagina dedicata all'Udinese dove il titolo è si attendono altri due rinforzi il tecnico dell'Udinese attende una verifica sullo stato di forma dei suoi giocatori dalla Michele di sabato con la SPAL gli innesti riguarderanno il centrocampo e l'attacco Pereira rimane un nome caldo con l'aiuto del Watford sabato ultimo testa Premariacco contro la SPAL Ferrara Molina si è messo al lavoro per recuperare il tempo perduto rimaniamo su questa pagina per vedere anche le altre notizie anche Zico rende omaggio alla nuova maglia mentre la passione cresce e poi il Leeds insiste per Rodrigo De Paul Sema e Peris assegnano in Inghilterra in una partita di Coppa il Leeds insiste ma a quanto pare pur essendoci probabilmente l'accordo tra il club inglese e il calciatore manca ancora l'offerta buona l'offerta giusta all'Udinese continuiamo ancora qui si parla del Pordenone e siamo sempre sulle pagine del gazzettino D.A.U. Graffia, Venezia rimonta, il bomber arrivato dal Cittadella va subito a Bersaio poi segna anche Bassoli ma l'Amicheure finisce 2-2, Tesser è soddisfatto, il risultato ci va bene perché loro sono più avanti nella preparazione e oggi c'è il Ravenna ricordiamo che il Venezia ha battuto anche l'Udinese in Amicheure siamo riusciti a dare i 90 minuti in campo a molti giocatori ha detto Tesser finora non li avevano mai fatti e questo per me diventa l'aspetto più positivo della giornata andando ancora più avanti troviamo articoli sulla Serie D, sulle squadre dei campionati di Serie D il girone di Serie D con le corazzate venete e i club trentini obbligherà a disputare almeno 4 turni infrasettimanali Rossito dice sono avversarie spaventose, è stato presentato il gruppo del Chions edizione 2020-2021 che sarà guidato dal tecnico Fabio Rossito, Renoir è quarto ma poi scattano squalifiche multa polemiche nautiche nella competizione partita da Caorle che vi abbiamo documentato con i nostri servizi in diretta con il POMA collegato la settimana scorsa da Caorle e poi con uno speciale che è andato in onda ieri sera e è andato in onda anche oggi alle 14.30 in replica sul nostro canale lasciamo il gazzettino, adesso ci spostiamo sul messaggero sempre per parlare però di sport, sempre per dare un'occhiata alle pagine sportive ecco la prima di sport del messaggero Barak va al Verona, l'Udinese incassa altri 10 milioni non c'è ancora l'ufficialità ma siamo vicini a questa notizia adesso tocca a Depol dopo Fofanalle al LAN vicina la cessione definitiva del Ceco in balo resta l'uscita dell'argentino corteggiato dal Lids prima allenamento al Buzeschi per Molina di cui abbiamo parlato e poi a centrocampo si ricorda che sono arrivati due calciatori a parametro zero Forestieri e Darslan per il quale però per il turco manca soltanto l'annuncio che potrebbe arrivare oggi e poi notizie che arrivano anche di un Fenerbace che sarebbe interessato ad Okaka per sostituire il suo bomber Muriki queste notizie non trovano al momento un fondamento e noi aggiorneremo in ogni caso qui la foto di Zico che indossa la maglia che fu sua e adesso l'omaggio ai Fogolars con la maglia successiva che verrà presentata presto la seconda maglia e poi ci sarà ovviamente anche la presentazione della terza per quanto riguarda il Pordenone ecco qui la pagina interna del messaggero sullo sport dedicata ai Neroverdi il Pordenone già di Dio col Venezia gol e buoni spunti un paio di accelerazioni il rigore segnato nel pari inamichevole con i Lagunari buona l'intesa in attacco con Ciurria bene il centrocampo a segno anche Bassoli dunque sicuramente bene il Pordenone in questa amichevole contro i pari categoria del Venezia andiamo ancora avanti per vedere altre notizie di altri sport in questo caso si parla di ciclismo dalla maglia tricolore al mondiale in Italia ma con la Svizzera il record di Gasparotto il frulano da un anno cittadino rosso crociato correrà a Limola il 27 è un'emozione unica è la prima prova eridata in 16 anni di carriera e poi ancora sotto gli occhi di Macron Roglic sempre più signore in giallo qui si parla del Tour de France poi scatterà anche il Giro d'Italia che porterà al 20 ottobre una tappa ad Udine dopo tanti anni di assenza del giro dalla città ed ancora vediamo anche articoli sulla pallavolo Itas battesimo nel nome del presidente Ceccarelli sarà il nostro settimo uomo e poi Chiarlins colpo da Serie C è fatta per De Agostini ma sarà un girone di ferro l'ex Pordenone ha trovato l'accordo con i Celeste Arancio il raggruppamento da Venti scontenta anche la Manzanese eccolo qui il girone C del campionato di Serie D con Manzanese, Chionze, Chiarlins, Muzzane e tutte le altre corazzate Venete e del Trentino a San Daniele dovrebbe essere tutto pronto per la partenza del pullman vedete il sindaco che indossa la fascia quindi una iniziativa ufficiale che ha i crismi dell'ufficialità quella che vi stiamo documentando con collegamenti ecco li vediamo eccolo qui il sindaco con la fascia e ci sono ancora dei genitori il pullman è aperto si attende l'arrivo di tutti i ragazzi e poi la partenza a bordo dello scuolabus udinese per andare in classe e dal messaggero adesso andiamo a vedere la gazzetta dello sport innanzitutto la pagina dedicata all'udinese eccola qui si parla del nuovo arrivo Arslan gol e talento da riscoprire l'udinese punta sul genio Tolgai dalle oltre 30 reti in una stagione con le giovanili del Dortmund al kebab mangiato all'intervallo e poi rispalla nostalgia zico torna a vestire il bianco nero Molina primo allenamento ed è già in buona condizione ed infine in basso si ricorda a tutti lo facciamo anche noi che dal 19 settembre da sabato tutti i mesi nell'edicole del Friuli Venezia Giulia l'udinese il mensile ufficiale dell'udinese calcio la prima uscita prevede un bel focus sul portierone musso il titolo è il salto di qualità lo troverete nell'edicole a prezzo di 2,50 euro ogni mese il mensile ufficiale bianco e nero l'udinese vediamo ancora se è possibile collegarsi con Luciana e Delfonso per farci raccontare ecco ancora immagini con le inquadrature che vanno a focalizzarsi sul gaiardetto dell'udinese c'è ancora un po' di movimento eccola qui Luciana che ci racconta questi ultimi momenti prima della partenza dei ragazzi per andare in classe Luciana quanto manca sì eccoci ci siamo praticamente per la partenza prima uno scambio di omaggi come potete vedere ovviamente la maglietta dell'udinese calcio è presente qui a San Daniele per questa giornata importante dove la società vuole essere vicina a tutti gli studenti del Friuli Venezia Giulia in questa ripartenza sui banchi di scuola sindaco rappresentante della comunicazione del consorzio ecco la nuovissima maglietta dell'udinese che appunto arriva qui a San Daniele vediamo anche le firme gli autografi dei campioni bianconeri insomma veramente una giornata speciale oggi a San Daniele del Friuli sindaco pronto che salirà sul pullman insieme a noi raggiungeremo poi via Kennedy e quindi gli istituti di San Daniele del Friuli Francesco veramente una bella una bella giornata la maglietta che poi avete visto verrà consegnata alla dirigente scolastica di San Daniele e quindi siamo pronti siamo pronti per partire insomma dopo vedremo anche questo scambio di maglie che verrà appunto consegnata alla direttrice alla preside insomma dell'istituto scolastico qui a San Daniele allora Francesco noi siamo pronti partiamo e poi ci vediamo in via Kennedy proprio per insomma vedere questo secondo giorno di scuola firmato in questa occasione Udinese Calcio a dopo va bene allora noi rimaniamo in linea vi aspettiamo e andiamo avanti ancora con questo nostro notiziario un po' più lungo del solito come abbiamo fatto ieri per documentare il primo giorno di scuola e quindi tra un po' andremo in via le Kennedy con l'arrivo dei ragazzi e lo scambio con la consegna della maglia più che uno scambio la consegna della maglia dell'Udinese alla dirigente scolastica salgono anche gli ultimi ritardatari che sono i nostri colleghi del marketing ritardatari per modo di dire perché semplicemente si stanno occupando e hanno fatto tutto ciò che bisognava fare per l'organizzazione nei minimi dettagli di questo che a tutti gli effetti è un evento perché pensate un po' il pulmono ufficiale dell'Udinese di una squadra di calcio che diventa per una mattina scuola bus e porta i ragazzini nelle loro scuole a San Daniele del Friuli andiamo a vedere le pagine dei giornali sportivi nazionali tenendo sempre d'occhio il monitor con la diretta con il pullman che è pronto a partire seguiremo queste fasi fino alla riva dei ragazzi pochi minuti per raggiungere la scuola dalla piazza di San Daniele ma intanto andiamo sulla gazzetta dello sport dove si parla di Milan in apertura Vaicol Rock alle 20 da Dublino riparte l'avventura del diavolo in Europa Ibra guida i rossoneri contro gli irlandesi dello Shamrock nel secondo preliminare che è anche gara secca di Europa League i gironi valgono 15 milioni di spalla il giorno di Dzeko Milan Roma ci siamo Edin potrebbe sbarcare subito alla Juventus vicino sì del Polacco ai giallorossi il Polacco sarebbe Milik pronto un biennale per il bosniaco Inter Vidal nuova via la rosa costa 200 milioni ma se Candreva va al Genoa Conte può avere il Cileno Marotta costretto a vendere prima di comprare e poi l'ombra del complotto sulla squalifica subita da Schvazer l'inchiesta penale su Alex e quella perizia ordinata dal GIP che alimenta il giallo valori anomali di DNA provette manipolate ma la WADA e la IAF non mollano la WADA e l'Istituto Mondiale Antidoping e la IAF e la Federazione Internazionale di Atletica Leggera e poi si parla di calcio di Bundesliga e di stadi aperti con il 20% alla tedesca ecco tutte le capienze degli stadi di Serie A dossier per la riapertura in Bundesliga per provare a fare un attimo un paragone tra quello che fanno in Germania e quello che si potrebbe fare in Italia dove però il comitato scientifico ha detto che per il momento non se ne parla andiamo sul tutto sport ecco che il pullman parte parte il pullman da San Daniele andiamo a vedere le immagini in diretta del pullman che sta per muoversi e per spostarsi dalla piazza agli istituti scolastici dove all'istituto scolastico dove i ragazzi verranno lasciati salutati dai genitori in tempo reale dunque vi stiamo mostrando il tragitto del pullman ufficiale dell'Udinese in collegamento in diretta alla San Daniele per questo servizio di scuola bus offerto dall'Udinese questa mattina un servizio di scuola bus con un carico emozionale davvero forte perché si viaggia a bordo del pullman ufficiale dove solitamente prendono posto i calciatori di Serie A i calciatori dell'Udinese i beniamini dei ragazzi che oggi sono a bordo di questo mezzo una bella sorpresa per loro andare a scuola a bordo del pullman dell'Udinese guidato dall'ottimo e storico autista Dimitri eccolo qui il tragitto lo completiamo insieme ringraziamo Carmine Sicondolfi per le immagini in diretta che ci arrivano dal pullman che come potete vedere è completamente personalizzato per l'Udinese con il logo sui sedili oltre che tutte le personalizzazioni esterne che richiamano la sponsorizzazione l'accordo con Promoturismo FWG e il territorio il legame il forte legame tra l'Udinese calcio e il territorio in questo caso per promuovere la stagione estiva sono stati sono state scelte le due località principe che sono Grado e Lignano per promuovere il turismo del mare ed ecco che il pullman in bocca le strade di San Daniele per raggiungere gli istituti scolastici leggiamo il tutto sport poi torniamo di nuovo a bordo del pullman ufficiale dell'Udinese tutto sport in apertura si occupa del mercato della Juventus della Roma un intreccio con Geco che passa dalla Roma alla Juve con Milic che è pronto ad andare alla Roma e si è preso 48 ore per decidere ma va verso il sì Milic sperava di poter andare evidentemente alla Juventus che però ha scelto Geco non potendo prendere più Suarez Europa League si riparte Ibra fai il diavolo e poi Torreira Ferrari dopo Firenze i piani del Torino sul mercato il nuovo Torino targato Giampaolo in panchina Serie A passa lo straniero in 6 club su 20 le proprietà straniere Geco o così o così o Roma o Juventus tornando di nuovo sul titolo di mercato poi Andrea Pirlo possesso palle attacco ecco il mio calcio la tesi che è stata resa pubblica la tesi con la quale Pirlo ha preso il patentino di allenatore UEFA per poter dunque allenare in Serie A addio Fino Fini grande custode della nazionale articolo scritto da Matteo Marani Fino Fini è stato un pezzo importante della storia del calcio italiano medico della nazionale per 6 mondiali dalla catastrofica avventura ai mondiali cilini del 62 fino al trionfo di Spagna 82 Corriere dello sport Milica la Roma lo paga Under il polacco verso il sì intesa con l'Ester per il turco il centroavanti vede il suo agente a Napoli oggi incontro con Fienga Cars drop no al Genova congelata la trattativa per Desciglio Kumbulla è già a Trigoria è arrivato il calciatore ex Chievo Verona Pirlo il mio calcio liquido la tesi dell'allenatore della Juve mi ispiro a Craif Guardiola servono aggressività e grande capacità di adattarsi alle gare e poi Milan Pioli rilancia Ibra per l'Europa e Ninja Skriniar per il Paris Saint Germain idea doppia per quanto riguarda l'Inter in uscita in questo caso Fantastico Sinner lezione a Zizpas oggi derby italiano il baby azzurro batte il numero 6 del mondo e vola agli ottavi dove si scontrano Berrettini e Travaglia quindi vanno molto bene i tennisti italiani al foro italico l'aria del foro fa sempre bene questo è il corriere dello sport e allora vediamo ancora San Daniele in questo momento immagini in diretta dal pullman che sta per arrivare quindi i bambini i ragazzini si apprestano a lasciare il pullman ufficiale bianconero noi proviamo adesso a dare un'occhiata alla gazzetta dello sport per mostrarvi il discorso delle capienze degli stadi con il 20% come hanno fatto in Bundesliga e allora cominciamo con l'Atalanta che ha una capienza di 21.747 spettatori potrebbe ospitarne 4.349 a Benevento 16.867 3.373 a Bologna entrerebbero in 6.000 su una capienza di 30.000 a Cagliari in 3.283 su una capienza di 16.416 a Verona con 31.713 spettatori di capienza entrerebbero 6.342 e poi c'è anche la media spettatori eccola qui la Dacia Arena che con la sua capienza di 25.182 spettatori potrebbe portare 5.026 tifosi all'interno dello stadio per assistere alle partite guardiamo ancora questa immagine a San Daniele molto belle perché è una guardatura che ci permette poi di sbirciare anche dal finestrino del pullman su San Daniele con bambini che guardano fuori incuriositi dal fatto di essere a bordo del pullman un ufficiale e di trovarsi in una situazione davvero particolare torniamo un attimo sulle capienze degli stadi perché un altro dato che vi voglio far notare sull'Udinese e sulla Dacia Arena è la media spettatori che è di 25.130 è di 21.914 chiedo scusa nel 2019 2020 una media spettatori molto alta tra le più alte in assoluto della serie A all'Olimpico di Torino 28.177 per una capienza del 20% di poco più di 5.600 spettatori via via tutte le altre come potete vedere si potrebbe assolutamente fare qualcosa di simile a quello che è stato fatto in Germania con 20.000 con il 20% chiedo scusa spettatori e hanno iniziato in Germania a farlo fino ad ottobre hanno detto che fino a tutto ottobre sarà un esperimento e in Germania riescono sempre a partire prima degli altri lo stadio che porterebbe più persone al suo interno sarebbe lo stadio di Milano con il 20% di capienza su 75.871 posti di capienza la capienza al 20% porterebbe 15.174 spettatori a Napoli ne entrirebbero 10.945 l'altro stadio tra i più grandi d'Italia e l'Olimpico con i suoi 70.884 e la capienza sarebbe di 14.126 dunque sicuramente si potrebbe tornare ad avere il pubblico sugli spalti ed anche in una situazione tutto sommato di sicurezza visti gli ampi spazi di uno stadio mentre come sapete nei luoghi chiusi c'è più possibilità di essere esposti al contagio lo stadio è aperto non capiamo perché non si prende in considerazione la possibilità di far entrare pubblico con una capienza ridotta almeno per tutto il mese di ottobre fino a quando non scadrà il prossimo dpcm non si potrà fare qui salgono altri ragazzi sul pullman quindi una serie di fermate per prendere anche altri studenti davvero uno scuolabus efficientissimo questa mattina per questa giornata molto particolare a beneficio dei ragazzi di San Daniele che vanno a scuola sul pullman ufficiale bianconero vedete c'è c'è attesa per salire a bordo non so se Luciana è in grado di sentirci ci può commentare anche lei queste immagini per per capire che cosa eccola qui Luciana la vedo all'orizzonte tra le teste dei ragazzi della scuola Luciana allora questa è una fermata per un primo step oppure il pullman è arrivato a destinazione in realtà siamo arrivati a destinazione come potete vedere ci hanno raggiunto anche alcuni compagni di scuola dei ragazzi che sono sul pullman una specie di comitato di benvenuto insieme anche ai rappresentanti dell'istituto scolastico per quella che è stata questa giornata un po' speciale per alcuni di loro arrivati fin qua diciamo con uno scuolabus d'eccezione come dicevamo prima insomma un breve percorso in realtà dal centro di San Daniele fino qua in via Kennedy dove la cittadina è ben strutturata e organizzata avendo tutti i servizi a portata di mano ma comunque emozionante adesso attendiamo che scendano dal pullman dove poi riceveranno anche una merenda messa a disposizione dal consorzio di San Daniele che ovviamente comunque è stato particolarmente attento anche alle esigenze alimentari di tutti i ragazzi per quello che è un ritorno sui banchi di scuola ricordiamo oggi soltanto il secondo giorno con a fianco l'Udinese Calcio che appunto come detto anche in precedenza voleva dimostrare manifestare la propria vicinanza anche ai ragazzi più giovani per la ripartenza dopo questi lunghi mesi di covid e di chiusura ricordiamo quasi sette mesi di chiusura delle scuole sono stati veramente tanti per tutti quanti noi e anche per i ragazzi quindi Francesco magari poi ti richiedo la linea breve quando i ragazzi scenderanno dal pullman e riceveranno insomma anche questa ricca e golosa merenda a te la linea grazie grazie Luciana e allora noi ci intratteniamo ancora un attimo così completiamo il servizio della San Daniele e a questo punto torniamo di nuovo sulla rassegna e lo facciamo però spostandoci di nuovo sul web per verificare se ci sono notizie nuove per quanto riguarda per quanto riguarda le aperture dei giornali digitali torniamo di nuovo sull'agenzia ANSA il titolo di apertura è ancora questo ma ci sono anche altre notizie come quella di Serragi il presidente libico che annuncia le dimissioni dicendo lascio entro lunedì e poi ancora andiamo a vedere altri titoli abbiamo visto le ultime ore con la la borsa in particolare e qui invece Mattarella Steinmeier a Milano due amici per l'Europa abbiamo commentato anche le parole del presidente tedesco che ha in pratica detto quello che tutti quanti stiamo dicendo da tempo cioè che l'Italia da sola non può fronteggiare l'emergenza dell'immigrazione sulla stessa linea ha anche Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione Europea continuiamo ancora dalla segna spostiamoci sugli altri giornali digitali il TG con 24 l'ultima ora è quella delle 7.55 Notav arrestata portavoce del movimento deve scontare due anni di condanna Dana Lauriole era stata condannata in via definitiva per un episodio del 2012 quando 300 persone bloccarono un casello autostradale facendo passare la gente senza pagare il pedaggio tutto è pronto per la consegna delle merende offerte offerte dal consorzio prosciutti di San Daniele ai bambini che scendono dal pullman e ricevono questo omaggio ecco vedete questo bambino indossa anche una maglietta di allenamento dell'udinese quindi immaginate l'emozione di questo di questo ragazzino a bordo del pullman ufficiale evidentemente è un tifoso bianco nero perché indossa anche la maglia di allenamento della della sua squadra della sua squadra del cuore Luciana si respira davvero un'atmosfera di eccitazione tra i ragazzini che stanno vivendo una giornata davvero particolare andranno a scuola sicuramente più contenti del solito assolutamente sì alcuni di loro come hai detto bene sono anche proprio dei piccoli sostenitori dell'udinese dell'udinese calcio e quindi per loro è stata una mattinata un po' speciale anche se ovviamente abbiamo creato un po' di trambusto rispetto ai loro soliti le loro solite orari e abitudini però al di là di questo devo dire che è stata veramente una giornata emozionante che si concluderà con un'emozione forse ancora più grande perché come potete vedere adesso il consorzio di San Daniele ha distribuito e ha dato anche alla dirigente scolastica un piccolo riconoscimento e la consegna da parte dell'udinese calcio all'istituto della maglietta dell'udinese della nuovissima maglietta dell'udinese calcio pronta per la nuova stagione autografata con le firme di tutti i campioni eccola qui la potete vedere il sindaco a consegnarla alla dirigente scolastica in questa mattinata veramente speciale che vede uniti e sempre più vicini il concerto di San Daniele e l'udinese calcio quindi veramente una mattinata fantastica ecco l'applauso con la società che vuole essere vicina e presente sul territorio a partire dai suoi piccoli sostenitori come quelli di quest'oggi ricordiamo sono ragazzini delle scuole medie quindi giovanissimi supporters bianconeri pronti a sostenere la squadra poi durante il campionato e quest'oggi ad affrontare il loro impegno invece scolastico quindi a breve li libereremo per la campanella di questo secondo giorno di scuola bene grazie Luciana chiudiamo qui la nostra rassegna che abbiamo allungato per seguire questo importante evento che ha dei significati molto importanti di vicinanza al territorio alle istituzioni scolastiche per l'udinese che ha messo a disposizione il suo pulmono ufficiale per fare la scuola bus io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle 10 con il TG News 24 arrivederci alla prossima